È stato il gruppo, la forza, la compattezza di tutta la squadra che ci ha portato con tutta umiltà a portare a termine questo risultato. Questo è un punto di inizio dove anche in questo incontro, in un derby, può dare molta forza e carica alla squadra per il proseguo del campionato. Il calcio è questo, tanta occasione non limpide, ma abbiamo cercato tutti i modi, però alla fine o perché l'abitro ha fischiato un fuorigioco o un'altra cosa non siamo riusciti a parigiare, però questo è il calcio. Sicuramente dal campo non te lo posso dire, perché ho visto partire dietro Bilancini, ho visto che ha toccato la palla, però non ti so dire se era fuorigioco o no, perché stava dietro le spalle mie e è partito dietro di me, poi non lo so.